La notizia è che c'è qualcuno che non pagherà. Oggi scade infatti il termine per il pagamento delle bollette arrivate a giugno agli inquilini del progetto Casa e Mappa, che altro non erano che solleciti di pagamento degli arretrati di consumi e cannoni dal 2015 al 2018. La cosa certa è che ci sono già diversi inquilini che si sono rivolti a Delegale Aquilani per farsi assistere nei ricorsi che si stanno presentando. Dell'argomento si è parlato e riparlato tantissime volte in questi mesi, con posizioni politiche diverse, ma la linea del comune comunque è sempre stata tracciata e chiara, si deve pagare. Soprattutto si era parlato dell'aspetto della ratizzazione perché in alcuni casi le somme sono notevoli e tanti inquilini in assemblee varie avevano parlato di cifre impossibili da pagare in un'unica soluzione. L'assessore Vito Colonna ha tirato dritto e ha spiegato che si possono valutare solo alcune ipotesi per andare incontro a persone che hanno somme superiori a 10.000 euro, ma per il comune si tratta di una minoranza ristretta. Fatto sta che da recuperare ci sono ben 7.243.000 euro. I 4.262 solleciti contengono al loro interno più avvisi per i canoni di compartecipazione, per locazione e gas metano. Ma veniamo ai numeri. Gli utenti si stanno muovendo per i ricorsi al giudice di pace, ma i tempi non dovrebbero essere brevi. Inoltre stanno arrivando anche le bollette relative agli anni successivi, sino ad arrivare al 2021. Il rischio in caso di mancato pagamento è la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, ma questa è una vicenda tutt'altro che semplice. Il maxi ricorso di 700 inquilini anni fa contro le maxi bollette fu perso, anche se ci sarebbero dei casi singoli diversi anni fa andati a buon fine. Ad ogni modo il tema sarà oggetto anche del Consiglio Comunale del 6 settembre, benché ormai le posizioni siano ben definite.